Incontri, degustazioni, conferenze e intrattenimento. E' stato un bilancio certamente positivo quello della prima giornata di Oasi, il salone dedicato all'Olivo, in programma alla fila dell'Evante di Bari sino a domenica prossima. Quattro, i temi chiave della manifestazione. Oltre a quello dell'Olivo, protagonista assoluto della tre giorni barese, concetti come ambiente, salute e innovazione, vengono sviluppati da professionisti ed esperti del settore all'interno di uno spazio espositivo di oltre 2000 metri quadrati. A tagliare il nastro del nuovo padiglione, l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni, e il presidente della Camera di Comercio di Bari, Alessandro Ambrosi, i due enti promotori del progetto Oasi. Mentre a fare gli onori di casa, è stato il presidente della fila dell'Evante, Ugo Patroni-Griffi. Questo è un contenitore, un format, che è stato realizzato in sedicesimi come un modellino di quella che può essere la fila italiana ed internazionale non sull'olio ma sull'olivo e le sue plurime utilizzi, le sue utilizzazioni, tutti i prodotti che possono nascere dalla trasformazione dell'olivo, i prodotti che nascono dalla pianta, la cura della pianta, la coltivazione della pianta. Credo che sia un prodotto di cui la Fuglia è orgogliosa ed è leader in Italia e in Europa e che giustamente trovi la sua vetrina naturale a Bari. L'apertura della giornata inaugurale è stata affidata ai più piccoli protagonisti di Biol Kids, il villaggio dei bambini. Oltre mille alunni delle scuole primarie pugliesi, già coinvolti in un progetto di educazione alimentare, sono stati al centro di una quindicina di laboratori ludico-educativi su sostenibilità ambientale ed educazione alimentare. Alla fine della cerimonia sono stati consegnati i premi Biol ai migliori oli biologici al mondo, ottenuti nel corso dell'omonima manifestazione internazionale, ospidata nel capoluogo il mese scorso. Un attestato di stima all'olio pugliese ma anche ad un simbolo del territorio, l'albero dell'olivo, finito sotto attacco negli ultimi tempi per via dell'axilella fastidiosa. Un allarme che non compromette di fatto la qualità di un prodotto che si conferma tra i più apprezzati al mondo. L'axilella colpisce gli alberi ma non c'entra niente con la qualità del prodotto. L'olio di Puglia è uno dei migliori oli del Mediterraneo e del mondo e noi che abbiamo investito tanto nel biologico, abbiamo in questi anni triplicato le estensioni di territorio rurale dedicate al biologico, anche qui rivendichiamo il primato nella qualità. Certo combatteremo il batterio patogeno da quarantena, la maledetta xilella, la combatteremo tornando alle buone pratiche agronomiche, facendo quei tagli terribili soltanto quando sono indispensabili a impedire l'espansione del parassita. Ma poi vogliamo anche dare coraggio a tutta la Puglia agricola colpita al cuore anche perché abbiamo 60 milioni di piante di olivo e abbiamo questa ricchezza, l'olio che è oro verde e intendiamo aggrapparci a questo possibile futuro. non è una vicenda che è nata per i più, ma è un'ottima storia, ma è un nostro altro futuro. Grazie.